benvenuti a questo nuovo appuntamento con senior news vediamo insieme i titoli di oggi manovra economica 4 miliardi alla sanità piani terapeutici i diabetologi chiedono ampliamento delle prescrizioni ai medici di medicina generale covid anziani terrorizzati dilagano ansia insonnia e depressione cistite una donna su due ne soffre almeno una volta nella vita nella manovra economica 2021 varata dal consiglio dei ministri la sanità occupa ancora una volta un posto di rilievo su 39 miliardi complessivi saranno 4 miliardi destinati alla sanità con l'obiettivo prioritario di rafforzare ulteriormente il servizio sanitario nazionale di fronte alla seconda ondata di covid le misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico un fondo per l'acquisto dei vaccini e viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del fondo sanitario nazionale l'agenzia del farmaco lo scorso 3 settembre visto lo stato di emergenza epidemiologica in merito ai piani terapeutici ha raccomandato di ricorrere per quanto possibile a modalità di monitoraggio e rinnovo a distanza e di estendere la validità per i casi in cui per criticità locali legati alla pandemia non sia ancora possibile eseguire i percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie ma medici e associazioni di pazienti chiedono che venga affrontato il problema in maniera strutturale con l'ampliamento delle prescrizioni ai medici di medicina generale e agli specialisti del territorio sentiamo l'aifa dovrebbe portare a termine il progetto che è già in corso negoziazioni sono per certo sono già in corso per portare alla prescrizione in rimborsabilità dei farmaci normativi per il diabete anche per la medicina generale punto quindi i piani terapeutici in questo momento con i dati che abbiamo di maneggevolezza e sicurezza dei farmaci normativi non hanno ragione di esistere sanno di essere quelli che rischiano di più in caso di covide ormai sono terrorizzati al punto di aver praticamente azzerato la propria vita sociale hanno paura di finire in ospedale di essere intubati e di non aver nessuno accanto al momento del trapasso ma la prima preoccupazione per i propri cari che hanno paura di poter infettare è la fotografia che emerge dal sondaggio condotto da senior italia federanziani per analizzare le paure le difficoltà che la popolazione senior del bel paese sta incontrando in questo lungo periodo di pandemia nonostante le difficoltà gli over 65 hanno imparato ad usare tutte le tecnologie disponibili per restare in contatto con familiari e amici hanno avuto gravi difficoltà ad effettuare visite d'esame diagnostici gli interventi i controlli oncologici e spesso sono stati costretti a ricorrere a strutture private ma si fidano delle istituzioni e giudicano corrette e utili le azioni e le strategie messe in atto negli ultimi mesi dal governo centrale e dalle regioni la cistite è un'infiammazione acuta subacuta o cronica della vescica in genere associata a un'infezione batterica viene solitamente curata con gli antibiotici anche se questi soprattutto per le cistite croniche non sempre sono efficaci sentiamo la cistite è una infezione nella maggior parte dei casi benigna che si può risolvere in pochi giorni ma con una terapia appropriata che si basa preferenzialmente con antibiotici oggi abbiamo anche disposizione comunque dei prodotti che possono in qualche modo prevenire le insorgenze delle cistite come ad esempio il mannosio che somministrato a dosi adeguate e nelle formulazioni moderne associate anche a probiotici possono permettere alla donna da un lato prevenire gli episodi di cistite acuta e quindi ricorrere antibiotici e prevenire logicamente episodi nuovi che la donna può sperimentare questo tipo di prodotto è indicato praticamente per tutte le donne per tutte le età e questo senz'altro ci permette di avere un'arma in più a disposizione nei confronti della terapia del paziente ma anche di non ricorrere frequentemente alla terapia antibiotica senior news termina qui grazie per averci seguita arrivederci a domani